quello che adesso io vi esorto veramente a fare è cercare di aprire proprio la vostra voglia di acquisire informazioni voglia voglia cercate di mettere in ciò che fate come punto principale la vostra soddisfazione il vostro essere al servizio i soldi saranno una conseguenza di quello che fate e ci saranno sempre quelli giusti che vi servono per comprarvi gli strumenti nuovi per andare avanti con le vostre informazioni che volete ritrovare perché se veramente ci mettete il cuore in quello che fate se vi emozionate io mi commuovo finché vi dico queste cose perché ho un piacere così grande che non lo considero più un lavoro la mia è una missione i soldi ci sono ma sì e sono una conseguenza e più donate questa è una regola ferrea e più vi tornerà indietro magari non dalla persona a cui avete donato ma l'universo meritocratico da qualche parte altra vi arriverà tutto con gli interessi e la cosa bella sapete qual è che non lo farete più pensando agli interessi perché lo farete pensando che quello che voi vivete il cui è ora la soddisfazione non ha nessun prezzo tutto ciò che arriverà sarà un valore aggiunto sarà qualcosa in più che dirvi non voglio più mollarvi ma è ora di salutarci dai vi voglio bene vi voglio bene grazie grazie grazie